Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, oggi qui per raccontarvi una testimonianza di Cristina, Cristina che ci scrive dalla provincia di Cagliari, dalla Sardegna, e ci racconta un po' la storia di suo papà, Palmiro, che nel giorno in cui ha compiuto 47 anni gli è stato diagnosticato un tumore, un tumore maligno in stadio avanzato alla gola che lo portava a star male, comunque gli fu subito detto che doveva essere asportato e quindi era un intervento molto delicato e che avrebbero fatto tutto il possibile pur non avendo garanzie di come potesse andare l'intervento e che ci sarebbero voluti almeno tre mesi di riabilitazione in ospedale per ricominciare poi ad ingerire nuovamente il cibo tramite un sondino, una cannula tracheale. Lui, scrive Cristina, era molto preoccupato per la sua vita ma anche per la sua famiglia che soffriva per lui, quindi era molto triste, molto angosciato. Allora il giorno dell'intervento la sorella di Cristina porta una medaglietta al papà prima di entrare in sala operatoria che il papà bacia e quasi parla con padre Pio e dice mi affido, mi metto nelle tue mani, ecco parla tu col signore affinché possa andare tutto bene. Andò tutto bene, l'intervento riuscì, dopo tre mesi di riabilitazione torna a casa. Cristina racconta che ogni mattina per sedici anni appena sveglio il papà baciava il quadretto di padre Pio che ormai era diventato un quadretto, quella piccola immaginetta inserita in un quadretto. Lo stesso quadretto che racconta Cristina le era stato regalato dalla sorella che era stata proprio qui in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e diceva proprio che quel giorno padre Pio gli aveva fatto una grazia e lui era sempre riconoscente. La storia però ci racconta che il papà di Cristina il sedici agosto, scrive di due anni fa, muore. Muore all'età di sessantatre anni proprio perché il male si era ripresentato in modo silenzioso, subdolo e non gli ha dato proprio scampo perché se ne sono accorti troppo troppo tardi. Però qui racconta una cosa molto bella Cristina perché sì non c'era più nulla da fare però il papà Palmino dice qualcosa di importante alla sua famiglia, dice anzi gli spiega che ora sì non c'era più nulla da fare ma era ora di andare, era ora di dover rispondere alla chiamata di lassù come diceva sempre lui. Allora Cristina ci scrive concludendo questa email io ringrazio sempre padre Pio tuttora e sempre molto spesso sento anche i suoi profumi lui è sempre con noi con tutti e padre Pio è sempre presente specialmente con chi ha bisogno.